Volevo riprendere un post pubblicato da un ragazzo qualche mesetto fa su questo gruppo in merito ai disservizi che spesso e volentieri ci troviamo a subire da parte delle ferrovie del sud-est sia quando viaggiamo con il treno sia quando viaggiamo con le autolinee automobilistiche, quindi su ruota diciamo. Il discorso che faccio è proprio questo, vigiliamo perché va bene mettere i disservizi sul gruppo, ci sta, ci sta tutto però ricordatevi sempre che noi viaggiatori abbiamo a disposizione un'arma fondamentale che è la carta dei servizi questa è reperibile sia dal macchinista quando viaggiamo in treno perché il capotreno che viaggia a fianco al macchinista ha la possibilità di consegnarci questa carta così come è disponibile anche, basta chiederlo all'autista del pullman, del bus o presso le biglietterie centrali eccetera eccetera, questo tipo di documento dove si vanno a segnalare in forma scritta quelli che sono i disservizi che quotidianamente abbiamo quando viaggiamo c'è la possibilità di poter mandare le notifiche via mail, via lettera presso la sede centrale della sud-est presso la COTRAP che è la cooperativa dei trasporti pugliesi cioè non subiamo questo tipo di situazioni perché noi paghiamo e proprio perché paghiamo il servizio deve essere efficiente, deve essere a natura di essere umano, di viaggiatore, di persona che se si alza alle 6 del mattino per andare un'intera giornata a lavorare e fa il pendolare non deve avere la sfortuna di fare il pendolare perché io mi immagino stare mezz'ora, un'ora in un treno che non ha l'aria condizionata perché è difettosa o perché gli viene accesa l'aria calda invece di quella fredda o deve rimanere in piedi perché i sedili sono scardinati, sono sudici eccetera 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 ricordiamoci che questi signori in questi ultimi anni hanno fatto un concorso a livello nazionale hanno assunto nuovo personale, stanno investendo centinaia di milioni di euro in costruzione di nuove stazioni ferroviarie, vedi quella di Adelfia la linea elettrica, altri 40 milioni di euro spesi per elettrificare la linea ferroviaria poi ci dobbiamo ritrovare, e lo abbiamo visto, con questi treni di riferimento questi saranno i nuovi treni che entreranno in circolazione quando verrà attivata la linea elettrica a me stanno già venendo i giramenti di testa quindi mi raccomando in questo, il fatto che dobbiamo subire il taglio degli orari nel mese di luglio nel mese di agosto, ma non esiste, non esiste perché vanno a tagliare corse che servono a persone che devono ritornare a casa dopo un'intera giornata che sono stati qui a Bari, chi ha lavoro, chi all'università e quant'altro quindi l'anno prossimo, già da qualche mese prima, ricordiamoci che a luglio di ogni anno c'è il taglio degli orari facciamo sentire la nostra voce, così come i pullman della sud-est non sono pullman urbani non sono pullman adibiti al trasporto cittadino perché questi sono vecchi gran turismo riconvertiti al trasporto cittadino avete mai provato a stare in piedi su uno di questi pullman? mi dite dove ci sono le maniglie di sicurezza, dove il passeggero si può tenere nel caso in cui il pullman faccia una frenata brusca voi vi ritrovate dalla coda del pullman direttamente spiaccicati sul parabrezza quindi queste cose facciamole sentire, diciamole, gridiamole, facciamo valere i nostri diritti perché ne va della nostra salute, ne va delle nostre tasche e ne va anche della nostra efficienza mentale che almeno quando arriviamo a Bari, dopo un viaggio tranquillo, magari siamo anche più efficienti a lavoro, a scuola, eccetera, eccetera ultima cosa, 40 milioni di euro per elettrificare la linea sono una spesa abnorme per il tratto chilometrico interessato teniamola in considerazione questa cosa piuttosto che spendere 40 milioni per elettrificare la linea e poi passerà comunque un treno ogni ora perché non ve ne andate dietro alle chiacchiere di quelli che vi stanno dicendo che con la linea elettrica viaggerà un treno ogni mezz'ora non è vero, e sapete perché non è vero? perché noi abbiamo ancora chilometri e chilometri di unico binario da questo punto di vista quindi mi raccomando perché anche questo è importante magari con quei milioni di euro si faceva il doppio binario e poi si pensava ad elettrificare la linea elettrica grazie a tutti